Siamo con Federico Greco, coordinatore provinciale di Taranto del Movimento Politico Libertas. Da lungo tempo, già da prima che ci conoscessimo, io ho apprezzato l'impegno di Federico Greco per far sì che l'aeroporto Arlotta di Grottaglie possa aprirsi ai voli passeggeri. E' passato tanto tempo, tante battaglie, tante raccolte di firme, però alla fine chi comanda, l'uomo del monte, ha detto no. E i voli passeggeri a Grottaglie non ci sono. Nel frattempo la fantasia di Emiliano ha spaziato altrove e ha pensato ai voli suborbitali, ai viaggi nei weekend nello spazio. Quindi Greco, lì tra un paio d'anni dirà vado con mia moglie un weekend sulla Luna. E i voli passeggeri ci vengono negati. Facciamo un po' il punto della situazione, proprio come Movimento Libertas negli ultimi tempi. Vi siete dati molto da fare con raccolta di firme, con sollecitazioni varie. Sì, come Movimento Libertas stiamo effettuando una raccolta firme a livello provinciale. Partita da Montegliasi sabato scorso, praticamente stiamo cercando di coinvolgere quanti più cittadini è possibile. Proprio per cercare di dare dei numeri di interesse all'uomo del monte che dice un sacco di cavolate perché pretende che i cittadini debbano trovare le compagnie aeree. Come se invece Aeroporti di Puglia, lautamente pagata, debba stare lì a grattarsi la pancia. Appunto per questo. Quindi Aeroporti di Puglia ha il compito sicuramente di gestire, di trovare comunque vettori che possano effettuare dei voli di linea. Sicuramente non i cittadini, anche se comunque una grande sorpresa la riceverà a giorni Emiliano, perché arrivato a questo punto lo mettiamo direttamente con le spalle al muro. Visto che come movimento stiamo cercando di sensibilizzare due compagnie aeree, siamo ancora in fase di trattativa. Però sembra ben avviata la cosa? La trattativa sembra ben avviata e quindi di conseguenza nel momento in cui daranno il loro assenso sicuramente potrebbero partire i voli di linea. Sempre che comunque Emiliano decida sicuramente di riportare l'aeroporto Arlotta a essere quantomeno un aeroporto dei tempi moderni e non della Russia sovietica del 1970. Ecco, ci sono da dire alcune cose. Intanto si è tenuto nei giorni scorsi un incontro alla provincia coordinato dal vice presidente della provincia Raffaele Gentile per creare una sorta di azione sinergica tra gli aeroporti di Crotone e l'Arlotta. Ci crede? In questo momento tutto può far bruto e tutto sicuramente è ben accetto. Il punto principale è che comunque si dovrebbero creare delle sinergie a partire da un discorso portuale per arrivare poi a un discorso di aeroporto. Sinceramente la vedo sicuramente un'ottima iniziativa ma che non credo possa avere grandi effetti visto che comunque sia la regione Puglia che la regione Calabria dovrebbero comunque investire parecchi soldi per creare praticamente la compagnia aerea. Intanto nei giorni scorsi abbiamo ascoltato, abbiamo registrato le parole sferzanti, offensive della dignità dei Tarantini proferite da Giannini, appunto assessore regionale ai trasporti, rientrato dopo una vicenda giudiziaria al suo incarico assessorile. La prima cosa che ha fatto ha detto chiaramente, signori Tarantini scordatevi i voli civili perché l'Arlotta è destinata ad altro, perché c'è già l'aeroporto di Brindisi, perché non dobbiamo fare duplicazione. Giannini evidentemente poi ci si lamenta quando qualcuno vuole andarsene dalla Puglia. Io sono rimasto sicuramente basito dalle parole dette dall'assessore Giannini, ma come Tarantino sicuramente mi sento di rispondere a Giannini essenzialmente in una maniera. Taranto deve riprendere la sua dignità, sicuramente abbiamo una possibilità di poterci muovere tramite l'aeroporto e l'aeroporto deve essere attivato. Non esistono assolutamente vocazioni di aeroporto. Alternative ai voli passeggeri? Assolutamente, un aeroporto è un aeroporto, quindi deve funzionare con i voli passeggeri, con i voli charter, con i cargo. Non esiste assolutamente una vocazione industriale, perché in questo momento esiste solamente quel tipo di vocazione per il semplice motivo che atterra l'aereo che carica la fusoliera costruita da Leonardo. Se questa è una vocazione industriale, sinceramente Giannini dovrebbe iniziare a comprendere effettivamente e a leggere qualche libro di economia. D'altronde noi parliamo di sviluppo turistico, di sfruttare le risorse del mare, le risorse naturali, le risorse paesaggistiche. Come si fa a parlare di turismo, voler promuovere il turismo, quando poi neghiamo la possibilità di arrivare a Taranto? Proprio per questo, perché un mio carissimo amico praticamente giorni dietro doveva rientrare da Milano. È arrivato in treno spendendo sicuramente un bel po' di soldini e investendo ovviamente del tempo. Con una tratta Taranto-Milano sicuramente nel giro di due ore sarebbe arrivato praticamente a destinazione. Quindi non abbiamo sicuramente dei collegamenti che si possano definire tali per quanto riguarda il nodo ferroviario. Non abbiamo collegamenti per quanto riguarda il discorso aeroporto. Le strade, sicuramente l'autostrada si ferma, si blocca massata. Quindi il turismo come potrebbe sicuramente attivarsi? Per concludere, abbiamo registrato anche, io ho intervistato l'onorevole Alessandro Ermellino, Movimento 5 Stelle, deputato tarantino crispianese, la quale ha detto, Sì, ma Taranto deve rimanere destinato alla sua vocazione di voli suborbitali, all'aerospazio, al cargo, anche perché se vi fossero i voli passeggeri, noi tarantini creeremmo un danno alle economie di Brindisi e di Bari. Mi sembrano affermazioni deliranti. C'è una tarantina che dice, io mi preoccupo delle economie baresi e brindisine e non considero la sofferenza la città di Taranto che puzza di fame. Ma purtroppo per quanto riguarda i crispianesi non è la prima, visto che comunque il sindaco Melucci che abita a Crispiano non è che riesca a mantenere un decoro per quanto riguarda la città di Taranto. Ritornando all'Onorevole, mi dispiace sicuramente, ma l'Onorevole Elmellino sicuramente deve quantomeno rassegnarsi all'apertura dell'aeroporto, perché ovviamente noi non creiamo assolutamente un danno, ma anzi, lavorando in sinergia con Bari, con Brindisi e con Foggia, sicuramente riusciremo a creare una struttura di sistema aeroportuale pugliese. Le ultime, quello che è in programma come azioni incisive mirate da parte del Movimento Libertas in questa direzione, apertura dell'Arlotta ai voli passeggeri. Sicuramente continuare a colloquiare, infatti in settimana prossima abbiamo un appuntamento con le due compagnie di volo, portare le due compagnie di volo a un tavolo tecnico con ADP e con Regione Puglia e a questo punto Emiliano non può che restituire al territorio tarantino i fondi che sono stati distratti per utilizzarli sia sull'aeroporto Brindisino che su quello barese.